Videocamera dentro Posso vedere? Domenica Tempura Adesso parlo Adesso ti mettevaso Adesso è strusciato Prima piano Rosuni a caia all'anno Non ho capito Ma stai riprendendo C'è uno importante prima Dipende a quello Ma Giuseppe, non dico cosa ti arrivo E cosa ti voglio fare E' un'altra di qua E' un po' di leno Tutti cosa non devi vedere C'è il cazzetto di S... Il cazzetto di Nosario SS Pintenso E' il cazzetto del Volvo E' anche che si accomoda Sì, s... E cosa ne pensi il cazzetto di Nosario?